Com'è la situazione della polizia locale a Foggia? È una situazione abbastanza difficile perché tutti noi conosciamo le criticità da un punto di vista della sicurezza di questa città, però tutto sommato non ci dobbiamo sempre lamentare, questa è la mentalità. Oggi è una giornata importante appunto perché festeggiamo il compleanno di quello che è il corpo, il corpo che per me rappresenta un'altra unità, unità aggiunta, che è il valore aggiunto, che è quello che ci dà la sicurezza di sapere che al di là di ognuno di noi c'è anche un corpo, il corpo di polizia municipale che appunto è l'istituzione che è dietro di noi e che quindi ci dà quella sicurezza di affrontare la quotidianità in una città così problematica come quella di Foggia. L'anno prossimo cadendo gli 80 anni abbiamo idea di fare qualcosa di più importante. In questi giorni costituiremo un gruppo di lavoro che si dedicherà specificatamente a questa cosa, non faccio annunci, fateci prima lavorare e credo che onoreremo al meglio il corpo.